Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Come vedete al titolo, non so come lo intitolerò però Problemi su problemi Perché ragazzi, proprio pochi minuti fa Stavo giocando al play Avevo scaricato il meetboy e ho detto perché Non portare un video carino per variare oltre a FIFA Poi stavo scaricando pure qua c'è la play Qua stavo allo schermo tipo Dying Light Oppure Destiny e cosa del genere Per giocare e portare altri video per variare il canale Registro meetboy, dopo un sacco di livelli che registro Arriva e si rompe il microfono Sto microfono che l'ho comprato 20 euro Dall'Euronics Economico ovviamente ma anche nelle live dopo due ore Un'ora e mezza mi scoppiavano le orecchie Perché tenerle così mi facevano male le orecchie Proprio letteralmente Però era economico, era buono Oggi registro e si sente tipo così Bella tutti Perciò non vale la pena più registrare Infatti ragazzi per non so quanto Domani non so se porterò un video Cioè venerdì perché questo lo carico giovedì No, lo carico venerdì questo Dunque sarete senza video Cioè sabato e domenica Anche se funzionano le cuffie Sabato e domenica non potevo portare video Perché non potevo portare video Perché sono fuori per un torneo Enesimo torneo consecutivo Dunque Devo andare da un marchino per forza Devo trovare un cinese Un negozio tanto qua dove sto io Ci sono un sacco di negozi di cinesi Abbigliamenti E ci sono pure quelli là Che vendono cover Cosa di genere Manca un paio di cuffie Con il microfono Me le dovevo comprare Ragazzi perché non posso stare senza Venerdì ci doveva essere live E purtroppo Per questo problemino Non ci può Non potrà uscire nessun video Ma neanche Un video Volevo portare un altro video Su FIFA Venerdì Prima dell'annuncio Oppure cose del genere Dunque Domani Cioè sabato e domenica Non esce nessun video Lunedì Neanche Io Lunedì penso che uscirà un video Del Lai mai Perché l'altra volta Mi avete fatto le domande Perciò uscirà Perché questo lo posso dirgliare Ovviamente Dall'iPad Non c'è ovviamente Microfono Dunque Non ha fatto La domanda Con la stag Ai mai La faccia qua Nei commenti Ovviamente se lo vuole fare Se vuole comparire nel video Dunque Martedì Spero Esco Il pomeriggio Anche se uscirà il video Alle 8 8 e mezza Però Devo uscire Lunedì Può essere che ovviamente Esce lunedì Che non martedì Il video Perché se escono Lunedì Pomeriggio A cercare Tra i vari cinesi In negozi Un microfono Ci riesco E lo trovo Spero di registrare Editarlo E mandarlo subito Sul tubo Così per non farvi Farvi Rimanere senza video Neanche lunedì Se no Ci rimandiamo Ovviamente A martedì Questo è il problema C'è qualcuno Che mi pensa Che si è rotto Il microfono Che ieri ho fatto Live Cioè Mica io butto Le cose così Al volo Io le appoggio È una cosa pure interna Perché ho provato Altre cose L'ho trattenuto Così Questo qua L'ho trattenuto Così Nel Nel Cosa Del joystick E infatti Un po' si sentiva Però non posso registrare Tipo Gioando la partita E tenere il coso Cioè Perderei Ovviamente La partita Non posso registrare In quei modi Per qualche mese Due tre mesi C'è C'è stato Ora è morto Rip Rip Microfono Detto questo Lasciate un bel Pollicione in su Questo mini vlog Aggiornamenti Del canale Problemi Non potevo portare Un video per qualche giorno Speriamo che lunedì Un cinese Ha Il microfono Lo spero Cinese Viva i cinesi Con il microfono Speriamo Detto questo Lasciate un bel Pollicione in su Commentate Se si è già fatto Condivete il video Bella